Ok ragazzi voglio iniziare il protocollo Deadlook Bello che mi segnala la missione lì il guanto di Thanos c'è delle pietre dai eh la madonna ah era il filmato scusa 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 no stava parlando io l'ho interrotto eh decifra memorandum deadlock di Nef Anio eeeh quale sarebbe? eccolo qua decifra e deadlock ok vamonos raga quest principale ve lo scrivo nel titolo così magari se qualcuno vuole vedere solo le quest principali intercettazione uh ciao dico catturare le torri nooo odio catturare le torri ah sono solo due? ah meno male dai round 1 di 3? com'è round 1 di 3? i'm already eh 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 conflitto cielo cielo no l'ho visto eh occhio dov'è? ah la B ah passavo avesse conflitto dov'è lo? eh stanno andando su A adesso dai ma porca dai easy no? come conflitto eh dai ma prossima ondata in che senso ah L'hanno spazzato la band, guarda! Dove stanno? Dove? Ma c'era un nemico qua No Vabbè ma io sono Ecco Quello che non volevo fare Cadere Vabbè Dai Ok Dai 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 ce la sto fa ce la sto fa oh mamma eh vabbè questi sono fortini eh cacchio ma porca puttana dai mona niente non riesco a salire raga eccolo dai che cazzo ce l'ho fatta cazzo 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 Fortuna Ah devo andare a parlare con lei Ok Vamonos Yeah Andiamo a parlare con lei Posso andare qua? Si No ho sbagliato No è giusto Ah devo andare qua ok Viz? Viz? Familiar but well Warframe, yes One of a kind Protea Legend says she was built specifically for And assigned to one Baros Granum Yes Part of a deal Granum cut With the Oracle themselves Granum was no amateur He had real power Our air inside says Best tanks have found a lead on Protea's whereabouts Protea tracers they call him Granum The original tax man Killed when someone A board member most likely Sabotaged the void drive of his personal transport Neff wants gene proof But there's nothing left to scan And yet so they believe They found Granum's Warframe bodyguard Who was with Granum When that void drive went critical So Who is to say what's true? Our people are vanishing because of this That's true I know it I don't care if Parvis Granum is dead alive Or making change tap dancing in a Grineer office is met Sparky You find what Neff is looking for You'll find out what happened to our people Get on it Ah ok Torno nell'orbiter Ok Eh torna la tua nave L'orbiter è la mia nave Giusto? Almeno Si si Devo tornare l'orbiter Ok 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 L'ho detto Scopo di destino di Solaris Scomparsi Ok era solo questa missione Va bene Io vi saluto Eeeh Ah no Solaris No ce l'ho ancora Eccola qua ok Dov'è? Non la vedo Ah volontari Ok Bene Ok Il protocollo Dead Look Adesso lo posso fiare Vamonos Yeah Volontari Corpus quest Ok Trova i sensori Protean mustard Ok Ho Il protocollo Il protocollo Covid Oh che cazzo succede? Ma scusate un attimo Ma Un attimo Sennò non si sente una sega La voce al massimo Salva Proviamo così Ok Ah devo romperlo No devo difenderlo Ah ok Oh madonna Cacchio Eh sì poi Oh madonna Cacchio Oh Sto morendo Cacchio Cacchio Da questi Dove cazzo Oh Oh madonna raga Porca vacca Porca vacca Che cazzo Cacchio Cacchio Oh no Devo difenderlo Oh no Oh no Oh no 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 Che cazzo Che cazzo Che cazzo Che cazzo Aspetta Non l'ho presa Boh Raggiunge l'estrazione Madonna raga È stata non dura Di più Porca vacca Madre de Dios Mamma mia Ok Ok Bella ragazzi Io vi saluto E ci becchiamo A un prossimo episodio Bella 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 Ciao 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 Ciao